Centro ufficio, Viale Teseo-Tesei a Portoferraio. Continuano le polemiche sulla chiusura della Villa Romana delle Grotte. Oggi parla Roberto Marini, vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo del Comune di Portoferraio. Dopo il duro attacco della minoranza consigliare che sull'argomento ha presentato un'interrogazione urgente con richiesta di inserirla nel prossimo Consiglio Comunale. Allora diciamo che per i dieci anni che sono trascorsi non è stato fatto niente per la Villa Romana delle Grotte. Questa amministrazione per contro si è presa subito l'impegno innanzitutto di essere a fianco alle ragazze di Archeocolor. Fin dal momento primo del nostro insediamento abbiamo preso contatti e abbiamo cercato di confortare la loro attività e di essergli vicini. E' culminata questa nostra collaborazione con le ragazze di Archeocolor con l'evento dei festeggiamenti del millenario Augusteo che tra l'altro è stata un'iniziativa che ha riscosso un importante successo. Adesso purtroppo ci sono state delle incomprensioni tra la società Archeocolor e la fondazione, incomprensioni delle quali siamo venuti a conoscenza, siamo intervenuti e siamo pronti ad interloquire con la fondazione Villa Romana delle Grotte per addivenire alla composizione della questione e perché l'amministrazione di questo comune sia parte attiva nella redazione di un prossimo tipo di accordo che verrà portato avanti tra l'amministrazione comunale di Portoferraio e che vedrà chiaramente partecipi e parte attiva anche le ragazze di Archeocolor. Il nostro intervento è un intervento fattivo, cosa che per gli anni trascorsi dell'amministrazione precedente non è stata fatta. Noi abbiamo ottenuto già qualche risultato. È stato uno dei primi obiettivi incontrare la fondazione per capire quali fossero i loro intenti e le loro progettualità. Quindi abbiamo incontrato sia le ragazze di Archeocolor con cui abbiamo condiviso dei percorsi e dei progetti e la fondazione Villa Romana delle Grotte per fare sinergia. Abbiamo elaborato un'idea che abbiamo esposto alla fondazione Villa Romana delle Grotte e adesso siamo in trattative e vediamo cosa sortirà fuori. Io credo che addiverremo a una contrattualizzazione che vedrà gli attori in campo, tutti i protagonisti per la prossima riapertura di Villa Romana delle Grotte.